The New Stories. La tua informazione libera. Il figlio, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio, è stato fermato grazie alla testimonianza decisiva del suo fratellastro di 11 anni, che ha aiutato gli inquirenti a ricostruire quanto accaduto. Il giovane è stato interrogato a lungo dalla pubblica ministero Gabriella Dotto. Grazie a tutti.